Salve a tutti ragazzi, benvenuti con questo solo gaming in questo nuovo episodio di Dead Space Intanto presentiamo la nostra mascotte, succo di frutta Vivente mi salita tutto in gola visto gli spaventi che prenderemo Allora, sono due giorni che non gioco E sinceramente me la sto facendo addosso, non poco Ah, che bello Ma... Tu dove cavolo stai? Cioè non potresti venire con un super fucilone della fine del mondo, proprio niente Però, visto che non dobbiamo più comprare nulla Ah, è vero Abbiamo già usato tutto quando? Quando io abbiamo i crediti? 4000, quindi niente nodi Mmm, va bene Ah, no, dobbiamo andare di qua Mi sembra un po' strano che fosse già finito il capitolo Mi dia, mi dica La dobbiamo andare Oh, vediamo quante munizioni abbiamo Eh, sì, ci siamo Ci sta, ci sta Vediamo se c'è qualcosa da caricare Ok, sembra che c'era qualcosa da caricare Perché mi sa che abbiamo potenziato il caricatore o la velocità? Non mi ricordo a dire la verità Che bella Che fase che ho detto Questa deve essere scritta negli annali della storia Vediamo Allora, dammi un po' più di zoom Quando chiedo zoom, dividere zoom Ok, perché qua ci sta una camera vuota Che noi dovremmo controllare Anzi, guarda Vedi? C'era qualcosa da controllare Sicuramente qua ci sta qualche Ok Finora nessuno schifo Io andando metterei il segatore Il nostro kit del falegname Ok Allora, già è un grande passo che non mi escono mostri dalla tazza del cesso E di questo ne sono internamente grato agli sviluppatori Perché se no avrei paura di andare al cesso a casa mia Ok, non ci ripeto Ok, è tornata la luce Ah, siamo tornati all'inizio Siamo tornati all'inizio Ecco, ecco Ecco Qualcosa Aspetta, c'ho qualcosa per te Prego, non uccidermi Non uccidermi Cambiamo arma, cambiamo arma Via Pezzi di merda Pezzi di merda Tu mi devi rispettare Porca troia Ti spara il pene Ti spara il pipino, eh Mannaggia voi Finita? Grazie Allora Abbiamo scoperto che questa arma fa i culi della madonna Oddio, ma perché mi escono le frasi di sempre Con un altro senso? Fa Casino Ok? Distrugge E non lascia Ah, però possiamo Ok Saliamo a quello che c'è A meno tempo C'è abbiamo Sette ore e trentasei minuti No, forse sette ore e qualcosa in più Allora Abbiamo usato questo Quest'altro Quindi dobbiamo caricare nient'altro Però sti rumori Sono un pochino Osceni Clac, clac, clac Sembrano di Una masturbazione Qualcosa di simile Vandalismo Perché prima non me l'hai fatto fare Ah Mi sento molto meglio Allora Qua mi dice di andare di là Ok Fai attenzione Attenzione Devi fare Attenzione Dove cazzo parcheggia la navetta? Qua No, di là Sto facendo scendere la navetta Sistemi di carico automatico non rispondono Ah, quindi ancora non so dove devo andare Ok Quindi verso di qua Questa era la porta che era bloccata Vieni a me Non te l'ho visto Altro che ritorno della forza Qua c'è Isaac Allora Dobbiamo andare per di qua Se non mi sbaglio Dimmi che non ci sono mostri ad aspettarci Però mi sa che Magari potrebbe essere l'ultima puntata questa Però qualcosa mi dice che Non è abbastanza sicuro qui Guarda qua Guarda qua che ci stava Ehi Volevi scappare Allora Quindi Accesso a gravità a zero Whee Adesso Qua sotto Troppe bombole Cosa c'è da fare qua Questo Che devo fare Allora Devo cambiare la direzione delle cose Vabbè Annaggia Multiraggio Vieni a me Il potere di Grayskullo Nelle mani Dai Ti aspetto Uno Due Dove è il terzo Dove è il terzo Trovato Tre Porca troia Diviso Avanti Che ne ho abbastanza per tutti Hai sparato eh Aia Fa male Ma perché dovete camminare Fuori Mi sa che devo cambiare Sparare con R1 Dobbiamo vederlo È una mina Ah La senti il dolore Ci mette parecchio a sparare Però Però Fa i danni Allora Abbiamo ricaricato Rimettiamo questa Tu vieni a me Ah Qui La mia plasma Qualche Proiettile Ah Vieni a Vieni a me Ok Questo è il marchio Devo ammettere che È abbastanza schifoso Guarda qua i caratteri Tu ti muovi ancora Lo sai che fai È abbastanza schifo Avanti Mo? Ah Ok Comeback Madonna Che rottura Però ho sentito Certi rumori Che non mi piacciono Dai Su Dove? Dove? Ah Eccoli Aspetta Per il potere Di grey school Ce ne sono altri Cambio Lo cazzo Questo è ancora vivo What up? Allora Siccome ho un pochino Paura Adesso andrei a Prendere questi tre Che alla fine Che alla fine Non mi danno molto Però Crediti Perché crediti? Perché? Allora aspetta Io prima ho fatto così Quindi ricarichiamo bene Ah Dai Perché? Hai incontrato qualche schifo? Su Giù E adesso per di qua Madonna Obi-Wan Kenobi Sarebbe fiero Allora Multiflusso Multiraggio Quello come cazzo Si chiama Aspetta tu No Uno Due Siete ancora vivi? Ma tu fai schifo Oh Oh grazie Ok È in posizione Eh Ho ancora problemi Con i comandi di caro E quindi? Le pristine Alla gravità nel locale Così dovrei riuscire A caricare il marchio Grazie No Per così Ok Appendo qua Scendo qua E adesso Rettiamo la Ok Forse abbiamo lasciato Qualcosa giù sotto Ma Non Non dovrebbe Darci più Tanto di fastidio Diventeremo Uno Oh cazzo Ho ragione Allora Devo ammazzare Pure il signorino Perché Questa porta è chiusa Fammi indovinare Dobbiamo ritornare lì E poi Ehm Non è finita ancora il gioco Ti posso sparare? No Totti arrivo Ti passo la palla Dobbiamo agire ora No Totti E' fatta l'assicurazione Aspetta Amelia Dove stai andando? Aspetta Se ne Se ne Lo sapevo La brutta puttana Lo sapevo Puttana Ci siamo riusciti Anche senza l'aiuto Della USM Spero che ti esplodano la vetta Spero che ti ho fatto Qualcassino Totti Da molto tempo Quello che Kain Non sapeva E' che questo disastro E' stato opera del governo L'intero pianeta Era un esperimento Il marchio La devono elinquea Ma Creato dall'uomo Ma io Ho creato esaminando Il vero marchio Circa 200 anni fa Aneta L'esperimento Era ancora attivo Kain Aveva ragione Sull'unicamente Il marchio Può bloccarla Ma A questo ora Non importa Vero no Mi hai chiuso Mi hai chiuso in mezzo a tutto E questo intero sistema Può andare all'inferno Per quanto vale Hai fatto un ottimo lavoro Isaac Ci vediamo Vai a fare in culo È un'assistente La sala di comando di volo Vai presto Ok Di qua vero Andiamo Che cazzo sei tu Boh Vabbè Munizioni Vabbè A so we show A so we show Cambiamo arma Uno Due Tre Finito E muori Baby Johnson Allora Prendiamo questo Ci frottiamo Il tuo kit Butto panzone di merda Ora che non ci penso Dove è finito Il nostro Mercer No Sono Babbo Natale Eh Ma quale panavetta Quella che è appena Stata distrutta Vabbè Io non lo so Quindi Vabbè Fammi salvare Mi fai salvare Mi fai salvare Donna malefica Fammi salvare Non posso Vabbè Il chiamo di emergenza navetta Oh Ehehehe E E Capsula sganciata Equipaggio Navetta USG09 Ripeto Capsula sganciata Che tu hai il rig Caruccio Morirai con noi Il nostro cazzo Morite tutti Quando voglio salvarmi A tu muori Va bene Ora posso salvare Voglio salvare Ma io lo voglio salvare Però Oh Finalmente Va bene ragazzi Io dico Che questo episodio Può bastare E ci vediamo Con il prossimo episodio Di Dead Space Con il vostro solo gamer Ciao ragazzi